24 xilografie che raccontano la storia di Pinocchio, da quando Geppetto riceve il pezzo di legno da Mastro Ciliegia a quando il burattino diventa un bimbo vero. Le hanno realizzate nel corso di questi anni gli ospiti del centro di riabilitazione del mosaico di Chiaveri e che adesso tornano in mostra nello spazio Casoni di Piazza San Giovanni per un'esposizione che viene arricchita con tante sculture in legno che si possono toccare e ammirare dal vivo. Diamo l'illusione dei personaggi di Gatto e la Volpe, ci sarà la fata turchina laggiù in fondo che la vestiremo, che è una mia polena tra l'altro e ci sarà tutto questo mondo di personaggi. Nel 2023 ricorrono i 140 anni della pubblicazione del capolavoro di Carlo Collodi sabato pomeriggio alle 16 il taglio del nastro per una mostra che resterà allestita fino all'8 di luglio. Nell'occasione è stata organizzata anche una piccola rappresentazione teatrale. Il primo di luglio alle 4 ci sarà Luca Poli che farà insieme al gruppo teatrale Duende faranno un po' di rappresentazione qua chiaramente legata alla figura di Pinocchio e ci sarà l'inaugurazione e poi apriremo questa mostra dove ci sono 25 incisioni che si comincia praticamente dal ciocco di Mastro Ciliegia che dona a Geppetto quest'albero che ci siamo sempre domandati di che Senza fosse perché Maestro Ciliegia ma no che fosse di Ciliegia, virgola e quindi io ho cercato poi di ambientare delle cose legate alle opere anche un modo per sostenere proprio il mosaico Sì infatti poi sono messe in vendita le opere in numero limitato firmate dagli artisti ci sono le cartelle quindi la gente per la modica cifra da 10 in su io mi auguro che la gente capisca che vale molto di più di 10 euro e così sosteniamo questa splendida opera che è merito di Armiraglio che non vuole apparire ma lui è il grande maestro grazie a tutti grazie a tutti